La sottoscritta Fiorella Falci, componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario di Caltanissetta, Vicepresidente Legale Pro Tempore, rimette il proprio mandato in considerazione del fatto che gli endi e le istituzioni del territorio in rappresentanza dei quali era stata eletta l'unamità hanno quasi tutti cambiato la propria governance, in particolare il Comune di Caltanissetta, e pertanto ritiene mettere a disposizione il proprio mandato, dichiara la professoressa Falci.